La mattonata ha vinto la seconda edizione di Giochi senza frontiere di Rione e delle Proloco, al culmine di un sabato memorabile vissuto allo stadio comunale di Città di Castello, Corrado Bernicchi, tra divertimento, sana competizione e allegria, con oltre 200 atleti di tutto il territorio Tifernate che si sono sfidati fino a nottefondo davanti a circa mille spettatori presenti in tribuna nell'arco delle oltre sette ore di svolgimento della manifestazione. Un evento voluto fortemente dal comitato organizzatore guidato da Fabrizio Fontanelli per gli amici di Feffo, APS e Angelica Mariotti per la SD Centro Giudo Ginastica Tifernati e messo in piedi con uno scopo benefico. Il ricavato delle offerte libere dei partecipanti e degli spettatori, insieme a quelle della vendita di magliette e delle consumazioni al bar, è stato devoluto, infatti, in favore dell'associazione Inneauto di Fernautismo, mentre i proventi dei pasti preparati dallo stand gastronomico della Proloco di Perantonio sono stati dorati interamente alla popolazione terremotata della frazione del comune di Umbertede. Con la collaborazione dei componenti dell'associazione Italiana Persone Down che hanno accompagnato le 15 squadre in campo guidate dalla referente locale Patrizia Pescari e che hanno partecipato anche a diversi momenti di questa manifestazione, alle 17 è andata in scena un'autentica maratona del divertimento, tra gesti atletici e risate, impreviste colpi di scena che hanno davvero onorato lo spirito di giochi senza frontiere, simbolo della sana sfida sportiva per generazioni di persone. Con il commento di Silvia Epi e Paolo Ricci, i rappresentanti dei rioni e delle frazioni della città hanno esaltato il pubblico di tifosi tra le gag. Alla fine la giuria dell'evento, presieduta da Giulia Rossi della Toscana e composta da Nicole Carli del Trentino Alto Adige, Angela Odorino della Puglia, Liliana Carrieri della Puglia e Fabio Terradura dell'Umbria, insieme a Luciano Vanni, sempre dell'Umbria, ha proclamato vincitori nell'ambito del trofeo dei giochi senza frontiere del rione della Proloco, la squadra del rione Mattonata che con 89 punti ha preceduto di tre lunghezzi portocolore dei quartieri Madonna del Latte, secondi sul podio, davanti alla Proloco di Santa Lucia e Titta che hanno terminato la serie di giochi a parimento con 83 punti.